Mistero a Catania dietro all'arrapimento del 23enne catanese Giovanni Balsamo ritrovato ieri sera, circa 24 ore dopo essere stato portato via. Il 23enne è stato liberato in via Ventimiglia con i poliziotti che stanno indagando sul caso e che lo hanno subito interrogato nel tentativo di capire cosa sia successo. Secondo una prima ricostruzione con le indagini affidate agli agenti della polizia di Catania, Balsamo sarebbe stato portato via dalla sua stessa abitazione nel quartiere di San Cristoforo dove è stato raggiunto da due finti poliziotti presentatisi in divisa poco dopo le 5 del mattino. I familiari del giovane hanno denunciato il sequestro negli uffici della squadra mobile di via Ventimiglia. Che qualcosa non fosse proprio chiaro si era capito fin da subito. I due finti agenti dopo aver suonato al citofono erano saliti fino alla piena erottolo dell'abitazione dell'uomo. Appena Balsamo ha aperto la porta di casa non ha fatto in tempo a dire nulla. I due finti agenti lo hanno immobilizzato portandolo via di peso fuori dall'abitazione per caricarlo poi su un'auto mentre la moglie del rapito nel tentativo di fermarli è stata anche gettata a terra. Balsamo che a precedenti di polizia si trovava agli arresti domiciliari. Da capire resta il movente di questo rapimento. Si indaga nell'ambito della criminalità organizzata anche perché il suocero dell'uomo è un bosser gastolano della clan Santa Paola Ercolano. Ma non si escludono anche altre piste dagli investigatori. Al momento resta il massimo riservo.